Il Figline torna in Serie D dopo 15 anni e ha il direttore sportivo a Gatenzi il compito di allestire una squadra che possa disputare un campionato tranquillo. Quali sono stati i criteri per cercare di comporre una rosa competitiva? Intanto siamo partiti dallo zoccolo duro dello scorso anno, confermando Mr. Tronconi e tutto il suo staff. E poi da lì ci siamo attrezzati sulla base di quelle che sono le nostre possibilità, cercando profili sul territorio che però abbiano maturato nel corso degli anni un certo percorso anche un campionato di Serie D oppure che possano aver rappresentato l'eccellenza dell'eccellenza. Quindi diciamo scommettiamo su questo parco di giocatori che possiamo ritenere valido. Per il momento il gruppo è composto da 30 giocatori, si dovranno fare delle scelte. Sicuramente, come si dice in questi casi, partiamo in tanti, poi la rosa si cerca di razionalizzarla, di quadrarla sulla base di quelle che sono le esigenze tecnico-tattiche e sulla base di quelli che sono i numeri da un punto di vista societario. Chiaramente ci auguriamo di arrivare al 3 settembre con le idee assolutamente chiare, in modo da poter fornire a Tronconi e al suo staff una rosa assolutamente competitiva da mandare in campo. Secondo lei, dove potrà arrivare il filline? Noi vogliamo stupire, vogliamo far bene con l'entusiasmo di una nuova promossa e con un'unità di intenti tra tutte le componenti di questa struttura, dalla presidenza al magazziniere e ovviamente alle persone che vanno in campo e ai tifosi.